Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, in questo video passiamo ad una moneta d'argento. Uno degli ultimi acquisti che ho effettuato è proprio questo. Si tratta di una moneta da 1 oncia, una moneta da 31,1 grammi, in argento puro. Quindi parliamo di argento 999. È una moneta che ha come protagonisti due dei personaggi Disney più amati di sempre, ovvero Topolino e Pippo. Amici inseparabili. Per qualcuno magari questa moneta potrà sembrare un tantino infantile, probabilmente lo è, ma a me piaceva così tanto che ho deciso di acquistarla. Una moneta abbastanza difficile da trovare, infatti ha una tiratura molto bassa, parliamo di soli 15.000 esemplari. Quindi 15.000 pezzi per una moneta da 1 oncia in argento puro, quindi 31,1 grammi di argento puro. Ruotiamo un attimino la moneta e scopriamo che la moneta è stata coniata per il conto della zecca di Newer nel 2021, quindi una moneta dello scorso anno. E come la maggior parte delle once, nel retro è raffigurato il volto della regina Elisabetta II. Come valore nominale troviamo 2 dollari. Questa moneta, per chi non lo sapesse, anche se riporta il marchio di Newer, in realtà è stata coniata dalla zecca della Nuova Zelanda. Ruotiamo ancora una volta la moneta e vi faccio vedere quanto è bella. Se noti qualche piccola imperfezione, bene questa è sulla capsula, la moneta è perfetta. Moneta che è autorizzata dalla Disney, quindi non si tratta di una coniazione farlocca, ma è una coniazione a tutti gli effetti ufficializzata dalla Disney. Niente ragazzi, per me è davvero una delle monete più belle che si può trovare in circolazione per quello che riguarda logicamente le once da collezione. Per quello che riguarda il costo, al momento i prezzi oscillano tra i 50 e i 55 euro. A mio avviso una delle once più belle che ho in collezione, davvero fantastica. Volevo soltanto condividere con voi questa moneta, fatemi sapere se per voi è una moneta un po' infantile o se anche a voi, come succede a me, mi permette di ricordare un attimino e di rivivere la mia infanzia attraverso le monete. Credo che sia una cosa abbastanza particolare, ma al tempo stesso molto molto bella. Non mi resta che invitarvi a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, fatemi sapere cosa pensate di queste monete, cosa pensate delle once d'argento. Io come futuro vedo sempre monete d'argento, lo dico e lo ribadisco e lo sottoscrivo. Va bene gli euro, va bene tutto, ma secondo me il futuro è questo. Però, logicamente, come ben sapete, colleziono anche gli euro, ma impazzisco per queste monete. Sarà un mio gusto personale, magari mi sbaglierò, però mi piacciono. Se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti per non perdere i miei prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!